Sono 156 i nuovi casi di covid-19 rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore su oltre 15.000 tamponi, nessun decesso e tasso di positività poco sopra l'1%. Questi dati principali contenuti nell'ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dal Dipartimento della Salute regionale. I nuovi casi di covid sono così distribuiti, 55 nella provincia di Bari, 28 in quella di Brindisi, 25 in quella di Lecce, 19 nella provincia di Foggia, 18 in quella di Taranto e infine 11 nella BAT. Continua la lenta discesa degli attualmente positivi in Puglia che sono 3.231 con i guariti giornalieri da oltre una settimana sempre superiori ai nuovi casi, 171 quest'oggi per un totale di oltre 257.000 persone guarite. Dopo alcuni giorni di saldo negativo tornano a salire lievemente i ricoveri in area non critica dove si registra un più 11 con 187 persone ricoverate, il 7% dei posti letto disponibili. Stabili le terapie intensive dove al momento sono ricoverati 19 pazienti, il 3,9% dei posti letto disponibili. Stabile anche l'incidenza a ogni 100.000 abitanti che si attesta attorno ai 31 casi ogni 7 giorni, registrando un meno 0,8% rispetto alla scorsa settimana. Continuano intanto senza intoppi le vaccinazioni, oltre il 70% dei pugliesi ha completato il ciclo vaccinale.